L'accusa era quella di dipendenti del comune che favorivano di questi alloggi. Com'è nata questa idea e soprattutto questa voce? Non lo so, perché non è vera. Buffer alloggi a Chieti, la seconda in un anno. La prima era quella targata dall'assessore D'Agostino, finito alle cronache per i favori sessuali richiesti ai richiedenti. Questa volta a far scatenare la polemica il consigliere comunale, capogruppo dell'IDV Bassamel Zobi, che ha dichiarato le sue perplessità sulla formulazione della graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di emergenza abitativa a Chieti e ha precisato in una nota, dopo aver effettuato l'accesso agli atti in merito alla graduatoria provvisoria per l'assegnazione, dall'analisi della documentazione che ho visionato presso l'Ufficio Politiche per la Casa, è emerso che in molti casi non è stata rispettata la direttiva della Giunta Comunale, con la quale si stabiliscono i criteri da seguire per l'attribuzione del punteggio al fine di stilare la graduatoria. Inoltre è ufficiale che non solo non sono state esaminate tutte le domande pervenute a tutt'oggi, ma soltanto una parte di queste, circa 59. Oggi l'assessore Dario Marrocco, subentrato ad Agostino il 15 gennaio scorso, indice una conferenza ufficiale per rispondere alle accuse. Ma ripeto, la condizione di disagio abitativa deriva dal fatto di non essere oggi con la disponibilità di un'abitazione o comunque di doverla rilasciare a brevissimo tempo per motivazioni che siano state debitamente certificate, o di avere un alloggio antigenico o comunque sovraffollato. Marrocco spiega per filo e per segno tutto l'iter ha seguito dal giorno del suo insediamento e ci tiene a sottolineare che è stato proprio lui a sollecitare, poi introdurre la normativa anticorruzione negli uffici del personale di dirigenza e a introdurre l'obbligo di una graduatoria su precisi criteri di trasparenza e garanzia. Ma questo non deve far passare meno quello che è il significato e l'importanza dell'operazione, cioè avere una graduatoria anche per l'emergenza, quando ci sono soltanto 5-6 case all'anno che sono disponibili per l'emergenza e numeri di richiedenti che sono importantissimi.